12 comuni, 78 milioni di euro per la rigenerazione urbana, pubblicata la lista delle città umbre con più di 15 mila abitanti che hanno visto assegnate risorse all'interno della missione 5, inclusione e coesione, dei progetti per il PNRR. Si tratta di un insieme di interventi che attraverso il miglioramento della qualità del decoro urbano e del contesto ambientale svolgono un'importante funzione di supporto all'inclusione e di riduzione dell'emarginazione del degrado sociale. Terni si aggiudica il pacchetto maggiore con 18 milioni di euro per un totale di 9 progetti, seguita da Perugia con 10 milioni, Foligno con 9 milioni e 600, a seguire città di Castello, Bastia Umbra, Spoleto, Marsciano e Umbertide, ciascuno finanziato con 5 milioni di euro, quindi Orvieto e Todi, infine Assisi e Corciano. Gubbi e Narni sono stati ammessi ma non finanziati per un indice di vulnerabilità sociale e materiale non sufficientemente elevato per rientrare in posizione utile nella graduatoria. L'indice che ha escluso dal finanziamento immediato è un valore quantificato dall'Istat che esprime per ciascun comune lo stato di degrado e di disagio sociale attraverso sette indicatori che misurano la presenza di alloggi impropri di famiglie numerose con potenziale disagio economico e in disagio di assistenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione di affollamento abitativo. Il progetto che il comune di Gubbio aveva presentato a valere sui fondi PNRR per la rigenerazione urbana è la rifunzionalizzazione di piazza 40 martiri, uno degli obiettivi strategici dell'attuale amministrazione e uno degli argomenti al centro del dibattito nel focus l'oro di Gubbio. Valore stimato dell'intervento 5 milioni di euro, una cifra imponente che ora attende il finanziamento. Finanziamento che secondo l'assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili comunque arriverà. L'importante era essere ammessi. Il riparto dei fondi potrà consentire, seppur con ritardo rispetto ai primi 12 comuni, di avere liquidità. I tempi per i progetti già finanziati sono i lavori dovranno essere affidati entro il 30 settembre 2023, mentre il 31 marzo 2024 dovrà essere realizzato almeno il 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo. Entro il 31 marzo 2026 dovrà essere infine trasmesso il certificato di regolare esecuzione.